Grazie Presidente, rispondo con gli elementi che mi sono stati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il documento in esame presentato testato dall'On. Pellegrino, gli onorevoli interpellanti rilevano che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi del 2015 delle persone fisiche contengono delle presunte indicazioni discriminatorie tra i contribuenti con riferimento alla lingua da utilizzare nei documenti giustificativi degli oneri detraibili e deducibili riportati nelle dichiarazioni dei redditi. In particolare gli onorevoli interpellanti censurano le seguenti indicazioni contenute nell'appendice alle istruzioni del modello 730 e del modello unico fascicolo 1. Cito. Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste deve essere conservate a cura del dichiarante la documentazione debitamente equitanzata. Se la documentazione sanitaria in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano, in particolare se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se redatta in una lingua diversa da quella indicata va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti avendo il domicilio fiscale in Val d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta rispettivamente in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata se il contribuente residente della regione Friuli-Venezia-Giulia appartiene alla minoranza slovena. Per gli interpellanti quindi le discriminazioni contenute in queste precisazioni dell'Agenzia dell'Entrata sono molteplici. La prima riguarda la possibilità per il contribuente di effettuare la traduzione dei documenti solo in quattro lingue. Quando l'Unione europea di cui facciamo parte conta almeno 24 lingue ufficiali. Tra l'altro i documenti dell'Unione europea vengono normalmente redatti in francese e tedesco e non in spagnolo. La seconda discriminazione riguarda tra i contribuenti dell'area di confine. In Val d'Aosta e in provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione dei documenti redatti in francese e in tedesco. In Friuli-Venezia-Giulia a tutte le ricevute di spese sanitarie effettuate in Slovenia devono essere oggetto di traduzione giurata. La terza discriminazione riguarda il diverso trattamento tra contribuenti italiani, quelli della minoranza slovena e quelli che non vi fanno parte, selezione che non ha criteri oggettivi sulla base dei quali essere effettuata. Queste sono le indicazioni discriminatorie che sono state indicate. Con riferimento alla prima presunta discriminazione si rappresenta che le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche ribadiscono quanto contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze, la numero 9, del 9 maggio addirittura 1987, che dopo aver premesso che, ove la documentazione sanitaria sia rilasciata dall'operatore straniero in lingua originale o in altra lingua, è necessaria l'allegazione di una traduzione della stessa in lingua italiana in base al principio generale del diritto pubblico, secondo cui negli atti destinati alla pubblica amministrazione deve essere impiegata la lingua nazionale. Precisa che, tenuto conto delle particolari gravosità ed onoresità, diceva quella circolare, di questo adempimento, nonché del fatto che l'ordinamento scolastico italiano sia nel corso di istruzione media e inferiore, sia nella quasi totalità dei corsi di istruzione secondaria e superiore, prevede l'insegnamento di una o più lingue straniere e che, in base ai programmi approvati dall'autorità scolastica, costituiscono oggetto di insegnamento generalizzato o potenzialmente tale le lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, si ritiene, diceva quella circolare, che per quanto riguarda la documentazione redatta nelle quattro lingue testè menzionate si possa prescindere dalla richiesta di allegazione alla traduzione giurata che può essere validamente sostituita da una traduzione integrale della documentazione stessa redatta a cura del contribuente interessato e da lui sottoscritta per garantire la veridicità. Con riferimento alla seconda presunta discriminazione tra i contribuenti residenti in Val d'Aosta e in provincia di Bolzano e quelli residenti in Friuli Venezia Giulia, si rappresenta che la stessa circolare, sempre quella del 1987, che considerato, cito infine, che in base ai relativi statuti di autonomia la lingua francese nelle regioni Val d'Aosta e la lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano sono parificate all'italiano e ne è consentito l'uso disgiunto salvo espresse deroghe, la documentazione sanitaria straniera redatta nelle menzionate lingue ed allegate alle dichiarazioni dei redditi dei rispettivi residenti non potrà essere corredata ad alcuna traduzione in italiana che risultebbe superflua. Fino alla citazione della circolare. Premesso quando sopra, si rileva come la legge costituzionale numero 4 del 1948 e il DPR numero 670 del 1972 non faccia alcun riferimento all'appartenenza alla minoranza linguistica per l'utilizzo del francese e del tedesco nel territorio della regione Val d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, chiunque risieda in tali territori può utilizzare le lingue francese e tedesco. La legge 23 febbraio 2001, la numero 38, articolo 8,1 invece dispone che solo alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, dice quella norma, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative giudiziarie e locali, nonché con i concessionari di servizio pubblico di interesse, aventi sede nel territorio delle province di Trieste, Gorizia e Udine e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, fine dalla citazione della norma del 38 del 2001. Per gli stessi motivi, conclude il Ministero dell'Economia, appena esposti i contribuenti italiani residenti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, non appartenenti alla minoranza slovena, sembrerebbero non avere il diritto all'uso di tale lingua e alle relative garantigie costituzionali a tutela proprio delle minoranze linguistiche. questo è quanto. Grazie. Grazie, Sottosegretario. La deputata Pellegrino a facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onore. Grazie. Grazie. Grazie.